stacco, cioè svuoto la testa nel senso nel momento in cui faccio sport via il telefonino a concentrarmi sul presente, parlo di basket sarebbe figo registrare il campetto. L'Italia è un paese particolare secondo me per tanti punti di vista nel senso arriva sempre un pochettino dopo. Cioè in qualsiasi sport c'è una specie di bullismo tra virgolette con persone che magari ti spingono addirittura anche a smettere il proprio sport. Certo, scarso, scarso. Più da adesso Oiana passa quella palla, give and go, sono libero, ma metto dentro con un finger roll, capitano della squadra, sono leader bro, qui sul campo c'è Lucifero, stile più skills, non batti l'equip, sempre in the gym, si chiedono che ho fatto per entrare nella liga, ho sbagliato mille volte prima di arrivare qui, bitch, check it out, check it out, step out, step out, step out, step out, check it out. Va bene. Ciao a tutti. Oggi è puntata speciale, siamo qui al Cisalfa Sport di Roma Eur. Purtroppo ci devono essere Tommy e Alex, ma purtroppo non ci sono per qualche disguido ferroviario, però spaccheremo lo stesso, perché appunto abbiamo un ospite potentissimo, Gigi. Allora Gigi come stai? Tutto bene? Tu t'ho posto. Tu t'ho posto, tu t'ho posto. Io sincero devo dirti, sono tuo fan numero uno, fan numero uno, perché faccio schifo a basket, uno. Però guardando, oltre al fatto che ti schiacci in testa, oltre al fatto che ti schiacci in testa, faccio schifo a basket e i tuoi video sui vari social mi aiutano tantissimo a capire il basket, oltre a giocarlo, perché io sono l'unico facciamo calciatore nel gruppo di tutti i giocatori di basket e quindi sono di domenica a campetto, sempre. Una volta ci siamo beccati, sempre, dopo l'episodio di step out, e tu mi hai detto che hai sempre giocato a campetto. Sempre a campetto. E com'è il mood del campetto proprio, quando ti svegli e vai al campetto? È un bel mood, è un bel mood, dipende dal campetto che vai. Io a Pavia, io sono di Pavia, a Pavia solitamente vado sempre in uno, che è quello dove viene più gente e cose del genere, e vengono tante persone, cioè a weekend magari ci sono una trentina, una quarantina di persone, quindi se perdi stai fuori mezz'ora. Quindi c'è, devo vincere, se no non gioco, capito? Se no non gioco più. E allora è un bel mood, è un bel mood. Poi c'è un mix di persone completamente diverse, cioè da capacità di gioco, ma anche a livello di personalità. Io vado sempre con un mio amico, bella Pia, saluto peso, compagno proprio del campetto, è importante secondo me avere un compagno al campetto proprio fedele. e c'è, ce la peliamo di brutto, c'è la regia di brutto, mille situazioni diverse che sono stra divertenti. Io faccio parte di quelle persone che sono fuori più di... purtroppo, però va bene così. Quindi diciamo che è praticamente spesso sport comunque, no? Sì, io cerco di andare a baschettare almeno una volta a settimana, poi sport in generale, cerco di incastrarlo il più possibile tra comunque impegni di lavoro, stare in giro. E ho fatto box per un po' di anni, ho fatto calcio da pischello e adesso cerco di andare a correre il più possibile, allenarmi un po' a corpo libero e baschettare quando posso. Perché ti fai in Roma 10 km di Roma a piedi, adesso, ho capito, ho capito, ho capito. Devo stare in allenamento. Io ti faccio una domanda, andiamo subito, bam. Cos'è lo sport per te? Non lo so. Te lo devo dire io. No, no, lo sport secondo me è... È una bella domanda perché è talmente vasto, secondo me, come proprio concetto, che è difficile racchiuderlo in una singola frase, a maggior ragione in una singola parola come discorso. Io, per me personalmente, in questo momento della mia vita, perché secondo me dipende tanto anche nel momento della vita in cui sei, io in questo momento della mia vita lo vedo tanto come stacco, cioè svuoto la testa. Nel senso, nel momento in cui faccio sport, pam, via il telefonino, da parte i pensieri, che sia correre, che sia giocare a basket, che sia qualsiasi cosa, in quel momento lì mi aiuta tanto a concentrarmi sul presente. Un po' il discorso di Phil Jackson, allenatore dei Bulls, un pochettino di mindfulness, cioè lo sport è quello che riesce a darmi, a farmi vivere il più possibile il momento, che secondo me è fondamentale, che sia anche proprio, cioè, può essere riflessivo come cosa? Cioè può essere ho bisogno un attimo di pensare, ho bisogno un attimo di resettare, di mettere a posto i pensieri, vado a fare sport, ho bisogno un attimo di staccare. Cioè per me in questo momento è queste due cose lo sport, riflettere e staccare. Ora più staccare, più liberare la mente, come discorso. Sì, sai che molte persone definiscono lo sport come attività e basta, cioè nel senso mi alleno, stop, invece lo sport secondo me è molto più di questo, cioè c'è proprio un benessere mentale, ogni volta che esci dalla palestra o esci dal campetto che sei stanco ma ti stai divertito tantissimo. Io a volte, vabbè io, ex giocatore di calcio, quindi a volte vado a fare dei tiri con degli amici, ci andiamo a giocare, dei calcetti e non è che ci vado solo perché ho voglia di giocare a calcetto, ma anche perché una volta che sono sul campo non penso più a nient'altro, no? Una volta che tu sei sul campo da basket pensi solo a giocare e ti libera veramente la mente. È una cosa molto importante, le persone non riescono a volte a capire che aiuta molto anche mentalmente. Assolutamente. Siamo entrambi i tiktoker, possiamo dire che ci sono quei, diciamo, i finti palestrati, quelli che vanno sul tiktoker, sono grossi, cose, i pompe di ogni giorno e dimostrano altre cose, capito? Tipo, c'è quella, penso che anche voi sicuramente avete già visto quelle persone lì che ti dicono lascia stare tua moglie, lascia stare la tua ragazza, concentrati, stai focus, c'è solo questo nella tua vita, non mangiare, allenati e basta, cioè non mangiare e poi faci la ragazza, non mangiare e poi faci la ragazza. Mangiare più niente proprio per lì. Capito? Sono quelle persone che veramente dicono devi fare solo quello, quando dietro quella cosa c'è anche un divertimento, capito? C'è anche una cosa molto, cioè c'è un pensiero dietro figo e comunque ragionevole. Sì, secondo me è molto bello questo tuo pensiero perché proprio per questo punto di vista, secondo me a volte si fa passare un po' devi far questo, devi far quest'altro, forse ancora peggio, se non fai questo non ti succede questo, capito? Che crea tanta fomo in linea generale. Invece secondo me comunque un mindset generale che sia sport, che sia generale, secondo me lo sport aiuta tanto poi a riuscire a conseguire quello che vuoi conseguire nella vita, comunque secondo me è una parte fondamentale, è un qualcosa che ti deve venire spontaneo, cioè non è un qualcosa che fai e dici ah lo faccio perché devo farlo. Certo a volte c'è magari il sacrificio che dici cavolo, vorrei far qualcos'altro, però lo fai con il mindset di dire però lo faccio per un mio benessere personale, però spontaneo, spontaneo, non forzato. È importante secondo me questa cosa. Voi fate sport? Cosa? Poi alla ganessa. Tutti? Sì, certo. Tutti poi alla ganessa. Eh grazie, c'è Gigi. Cosa dovevano fare? Giusto così. E una domanda seria. Sì. Tu quando fai sport ti capita mai di andare al campetto da solo, senza nessuno? Sì. Ma togliendo il lavoro, togliendo il rec, i video, proprio te, senza te l'hai come detto prima, ma sì l'hai detto prima, sono un coglione. Sì, sì, no, comunque mi capita, mi capita alla grande. Ma perché, secondo me, una parte super cool del campetto è che per l'appunto, cioè, puoi andare da solo e becchi gente. Posso giocare? Sì, parola, pam, entri. Buona, finita. Cioè, non ti conosci un secondo primo, ti conosci un secondo dopo, giochi insieme, buona, assolutamente. Io non vedo, in ottica generale, anche lo star da solo non lo vedo come un male. Cioè, assolutamente, secondo me, saper star da solo è fondamentale per riuscire a star bene poi anche nel gruppo. È importante. La musica invece aiuta mentre stai da solo, mentre giochi ogni tanto, perché vedo che comunque io non sono, non guardo molto l'NBA, però guardo qualcosa. E molti giocatori durante il riscaldamento si tengono le cuffie per essere più concentrati, quindi che ne dici che ti aiuta tantissimo questa cosa? Allora, musica devastante, secondo me. Io la vedo più come mood generale rispetto a un qualcosa di mio focus individuale. La vedo più come mood generale e come un accompagnamento in ottica generale, però tipo NBA è super. Cioè, non partire anche trend peso di ballerci, cose, cioè, quindi lì è proprio super. Mi ricordo tipo ai Suns, Bridges, Eiton, che si ballavano in via Youngboy a stecca prima di ogni partita, così. Lì è sicuramente parte integrante, tanto quanto è la moda all'interno del basket, parlo specificamente. E' super importante. Io vedo tanto basket come una sorta di emisfero a cui poi si agganciano musica e la parte moda, secondo me, come discorso al basket. Tu nei tuoi video racconti molto episodi storici del basket e ti volevo chiedere, ma come è partito? Come è iniziato? Perché lo hai iniziato? Allora, il tutto, secondo me, è una cosa super importante, di cui a volte magari si fa fatica a dare importanza, è trovare la giusta domanda. Cioè, si cerca sempre la risposta, però nel momento in cui trovi la giusta domanda, poi la risposta viene quasi automatica. Io ho avuto la fortuna, in un periodo un pochettino difficile della mia vita, in cui volevo cambiare, di farmi la domanda giusta, che è stata quali sono le mie passioni. E la prima risposta è stata il basket. La seconda è relazionarmi con le persone. Ho detto, ok, interessante, domanda giusta, risposta annessa giusta. Come posso sviluppare questa cosa? E da lì ho iniziato man mano a pensare ai vari angoli in cui io vedo il basket. Cioè, io sono super fan del basket, quindi mi capitava di beccarmi video su YouTube, TikTok, Instagram, qualunque cosa. E ho detto, ok, a me interessa questo argomento, a me interessa anche quest'altro. Anche quest'altro, come posso farlo io a modo mio? Cioè, la cosa fondamentale è stata proprio a modo mio, spontaneamente. Cioè, nel senso, questa è stata proprio una linea guida all'interno dei miei contenuti. Cioè, proprio farlo in maniera spontanea e soprattutto non basare tanto il fatto che un contenuto possa andare bene o possa andare meno bene in base a visualizzazioni, likes o cose del genere, che influenzano comunque a livello... Cioè, proprio emotivamente comunque influenzano e bisogna cercare di staccarsi, secondo me, un pochettino da quella cosa. Ma dall'essere soddisfatto io del contenuto che ho fatto. Cioè, se faccio un contenuto e dico, spacca, cioè io me lo guarderei. La cosa è sempre, quando cerco anche nuove idee, cerco di pensare, cos'è che vorrei guardare io? Cioè, cos'è che mi guarderei se dovessi vederlo da un'altra persona? Nel momento in cui mi viene un'idea che dico, cavolo, questa cosa me la guarderei di brutto? Idea che ci sta. E quindi è stato un processo comunque, è partito tutto da quella domanda e poi step by step si è evoluto anche nel mentre. Secondo me è importantissimo iniziare. Inizi e poi adatti. Cioè, piuttosto che stare tanto a ragionare, ci sta del pensiero, però non troppo. Poi il rindondante rischia di rallentarti. Ti è mai capitato tipo di creare dei contenuti fantastici che per te sicuro andavano sui social, poi non ne sono andati nemmeno un po'? Ma... qualche volta sì, qualche delusione... Cioè, delusione! No, delusione è parola errata. Però magari qualche volta sì, mi è capitato. Però è anche vero che un concetto che cerco di tenere a mente, soprattutto utilizzando TikTok, Instagram, Reel come vettore principale, è la velocità. Cioè, io pubblico sei video a settimana, tutti i giorni tranne il sabato. Cioè, c'è un contenuto, pam, 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 vai, vai, vai. Cioè, non stare tanto a rimuginare, nel senso, tra un mese... Poi, il concetto è bello perché la gente può andare a riprendersene, però non si ricorderà mai per tutta la vita. Ah, Gigi ha fatto questo video che... Sì, sì, sì. Next, vai, continui a spingere. E poi si va avanti. Eh, questo è un po' il nostro problema, capito? A volte, non voglio dire come hai detto te l'illusione, c'è quel momento di tristezza, che non dura tanto. Impatto emotivo. Esatto, esatto. Il momento di tristezza dice, oh, io volevo... Cioè, speravo in bei numeri e invece non è successo quello. Però, vabbè, ho altri video, ho altri contenuti, vado avanti, così funziona. E la cosa, secondo me, assurda, anche in ottica generale, è che nel momento in cui provi questa sensazione un pochettino di rammarico, diciamo, come cosa, sarà comunque sempre più forte rispetto al senso di gioia che provi quando un contenuto va bene. Cioè, l'abbattimento è sempre più forte rispetto alla contentezza dell'achievement. No, di raggiungere qualcosa. E questo processo mentale è super particolare, secondo me, ci sta invece a cercare di dar valore alle parti anche felici, insomma, quando sei soddisfatto. A proposito di valore, tu hai un timbro nei tuoi. Io ho notato, penso che tutte le persone che ti guardano notano il tuo timbro, perché comunque hai un intro spettacolare, anche se sappiamo tutti che le triple non le mette subito, diciamoci la verità, diciamoci la verità. Sta lì e riprova 40 volte, lo sappiamo, però vabbè. Vediamo il campetto, vediamo il campetto. Ma bro, ma ti schiacci in faccia, c'è qualcosa da parlare. Oh, sto! E' una cosa molto importante avere il timbro, no? Perché comunque sui social, se vuoi veramente andare, cioè farti riconoscere in maniera giusta, devi diversificare i tuoi contenuti dagli altri in maniera positiva, non fare altro. Alzo le mani. E come ti è venuto in mente di iniziare questo intro? Che poi io vedevo dei commenti all'inizio, perché io ti seguo dai primi video, avevi una parlantina di inglese che... Ma tuttora è... Io parlo inglese e italiano. Sì, sì, esatto. Cioè quando parlo in italiano parlo in inglese. Esatto, esatto. Come ti è venuto in mente di iniziare così? Di iniziare con un canestro, oppure con la schiacciata di un amico? Come ti è venuto in mente? Allora, a me, lì, tieni conto che io, fino a una settimana prima, io per dire ho iniziato a pensare a tutta la parte, a tutto il progetto di video a tipo metà luglio, fine luglio diciamo. Poi ho fatto agosto, settembre processo e provare a stare davanti a una videocamera e cose del genere e mi son detto, poi metà ottobre ho iniziato a pubblicare video del 2022 e fino a una settimana prima, cioè io dovevo registrare in casa, tipo mi ero fatto, ho una parete nel mio studio in casa con tipo tutti i quadri che mi sono selezionato e tutto. Poi avevo appena letto il libro di Peter Thiel, uno dei fondatori di PayPal e all'interno di questo libro c'era il concetto di contrarian, che significa un qualcosa che è oggettivamente corretto, che però va contro tendenza rispetto a un pensiero collettivamente utilizzato, diciamo, in ottica generale. E vedevo tutti che registravano in casa e tipo, vado a letto una sera e penso, cavolo, sarebbe figo registrare al campetto, cioè parlo di basket, sarebbe figo registrare al campetto. Ho detto, bomba, facciamolo. E da lì ho iniziato a registrare al campetto. E poi tutte le altre cose per dire i loghi e cose del genere, tipo lì è stata un'idea di Walla, un mio amico, bella Walla, e tutto nel corso. Cioè cerco di avere comunque uno script generale quando giro video, però poi cerco di rimanere flessibile alla creatività del momento. Cioè se viene un'idea facciamolo, senza avere dei canoni troppo rigidi. Giusto, giusto così. Ma hai mai iniziato a fare basket a livello agonistico? No, io ho sempre campetto. Zero. Come mai? Perché ho giocato a calcio da ragazzino, un'azione molto calcistica, e ho iniziato a giocare a calcio da ragazzino. E zero. Ho iniziato proprio da piccolissimo, tipo cinque anni, però sai quando sei bambino, che tipo non capisci tanto, e dici buona. Sì, sì, dici. Poi gli amici della scuola che facevano calcio, ho iniziato a fare calcio. E ho iniziato a giocare a basket tipo a 15-16 anni. Ho iniziato a campetto con i miei amici, e da lì... di persone che giocavano a basket, mi hanno insegnato a giocare a basket, bella Alex, nientore peso, e... mi hanno insegnato a giocare a basket. Da lì ho imparato, ho iniziato a giocare con gente che giocava a basket, ho iniziato a fare tornei, e... Ok. Ah, perché sa giocare? Beh, giochicchio, dai. Oh, ancora presto? Che basta! Oh, la fiamo al campetto? C'era qua, stai rispando? Ci vediamo al campetto, ci vediamo al campetto, ci vediamo al campetto. Un'altra domanda che volevo farti, io sono più o meno come te, ok? Io ho iniziato a giocare al contrario, ho iniziato a giocare a calcio, poi ho avuto tutti gli amici che giocavano a basket, e ho detto, boom, smetto calcio, anche io voglio andare a giocare a basket. Ho fatto tre mesi, mi hanno cacciato via, perché non sapevo fare niente, facevo un sacco di falli, entravo in modo calcistico, eh sì, sì, lascia stare. E mi sono reso conto che a volte è ciò che ti circonda un po', capito? Che ti spinge a prendere determinate decisioni, no? Ti ti sei mai fatto influenzare da altre persone? Allora, innanzitutto complimenti per aver introdotto questa domanda, devastante, cioè l'hai introdotta in maniera devastante, secondo me. E comunque la compagnia decisamente influenza come cosa. Io però se faccio uno zoom out, tipo magari mi guardo indietro in percorsi di vita, cioè mi rendo conto sempre un pochettino di essere stato magari all'interno del gruppo quello che faceva la scelta in ottica generale come discorso. E poi i miei amici insieme facevano tutto insieme, no? Quindi influenze particolari non le ho avute. Ho sempre cercato di ragionare con la mia mente e sempre cercato di pensare un pochettino out of the box in ottica generale. Poi sicuramente qualche influenza alla grande. Però ti direi più musica per dire che compagnia, come discorso a livello di influenza, capito? Sì. Ok, ok, ok. Sai, ultimamente, da ormai tanto tempo che esiste la street culture, ma in quasi tutti i paesi, che è questo festival dove comunque si celebra e si celebra tutti i sport tra calcio, basket, street, cibo, tutto quello che è street comunque. Non viene mai fatto in Italia. Se ti piacerebbe, a voi piacerebbe vedere una cosa tra tornei di basket, tornei di calcio. Quanto è street il fratellino. Lui è street for reale, veramente. E tu ti sei mai chiesto perché ancora non c'è una cosa del genere in Italia? Dici che non è pronta? No, secondo me... Ma per me è prontissima. Anche per me è prontissima, come cosa. Però l'Italia è un paese particolare, secondo me, per tanti punti di vista. Nel senso, arriva sempre un pochettino dopo in tanti discorsi. Arriva sempre un pochettino dopo perché secondo me in Italia c'è un pochettino il problema di guardare sempre l'altro. Cioè, guardare sempre l'altro è giudicare l'azione altrui piuttosto che metterti a fare anche tu come discorso, capito? E una cosa che sto capendo tipo, ma anche beccando te, beccando tanta gente, capito che magari crea contenuti, fa tante cose, cioè che le cose si fanno alla fine. Cioè, non è un qualcosa che spunta dal cielo, ti arriva. Le cose, le persone le fanno. Quindi ci vogliono persone che fanno cose. In Italia manca un pochettino secondo me a questa cosa. Sì, dai, sì. Per me, perché più che altro se tu inizi a fare qualsiasi cosa e sta andando, cioè, da quando non va che sono pochi comunque ad ascoltarti o a guardarti, va bene. Quando inizia a dimostrare comunque ad un paese intero che sta facendo una cosa diversa e lo sta facendo bene, lì comincia ad avere vabbè, ma è giusto cioè, penso che anche Lebron James ha dei haters. Certo. Cioè, non si può piacere a tutti. Certo. E questa è una delle cose più gravi, ok? Tu sui social hai mai ricevuto tipo commenti su un video ma col commento magari non c'entrava niente con il video che hai messo? Sì. Ti è mai capitata una cosa del genere? A me, allora, qualche volta è capitato soprattutto all'inizio, tra l'altro qua c'è Roby, saluto, bella Roby, founder di NBA, la pagina NBA che mi ha aiutato un sacco nella crescita in generale. Subito mi ha visto, mi ha scritto, mi fa, oh, iniziamo a fare video e ti va di iniziare a pubblicare video insieme? Così ho detto, parola, abbiamo iniziato e ero TikTok come cosa e all'inizio non volevo pubblicare su Instagram, quindi le porte me le ha aperte Roby inizialmente tramite NBA e quindi era un mondo nuovo in cui magari su TikTok iniziava ad avere un pochettino di persone che capivano la vibe, Instagram meno, con delle persone diverse comunque in ottica generale e quindi mi capitava le prime volte che pubblicavamo video insieme che mi dicevano cose che non c'entravano niente con il video e ci siamo confrontati anche Vivi lascia vivere, cioè, easy, il tuo audio mi scivola addosso, non ce l'hai con noi, ce l'hai con te? Ma un uomo ce l'hai con! e che un giorno... Vabbè, io pubblico molti video diversi, però ne pubblico tanto quando scrivo monologhi e comincio a sfogarmi sulla mia vita e un giorno ho messo lo stesso video su tutte e due le piattaforme, quindi Instagram e TikTok. Su TikTok tutti i ragazzi i presi bene, capivano appunto come eri tutte la vibe. Su Instagram c'è chi ha scritto che maioncino arancione. Ma che te ne frega del maioncino, capisci quello che stavo per dire? È questo il problema che c'è questo distacco e comunque anche perché comunque diciamo c'è la verità TikTok ha un pubblico molto più giovane che magari riesce più a capire se vai su un'altra piattaforma come Facebook magari è ancora peggio e penso che il punto più giusto e la cosa più importante è quella di avere quel focus che ti dice questi hanno scritto questo, vogliono farmi scendere, io sto andando, ho delle persone che mi vengono a vedere anche se non so tirare, anche se non so forti, anche se faccio... Eh? vado avanti, capito? Non mi dovrei spaccare, vado avanti e io ho una domanda che ti volevo fare, un consiglio che daresti, ma non a livello social, ma a livello sportivo, ad una persona che magari non è... è tipo me, ok, fai che... sono io, non sono fortissimo, sono più forte di te, ma non sono fortissimo e faccio fatica ad andare avanti, capito? Nel senso che magari vado al campetto non mi fanno giocare, sto, come ho detto prima, 90 minuti fuori, entro, faccio due tiri e poi sono 90 minuti fuori di nuovo. E... Hai mai ricevuto questi messaggi, tra l'altro? Tipo persone che ti dicono non so giocare, i tuoi video mi aiutano, magari? Sì, mi è capitato, mi è capitato qualche volta, anche se non mi sento la responsabilità di aiutare tanto persone, però sì, magari mi sono capitati qualche video che mi mandavano così, e gli ho detto guarda, secondo me potresti far così e aiutarli un pochettino. Comunque secondo me in quel momento se sei in quella situazione la cosa fondamentale da cercare di sviluppare è la parte di empatia, cioè cercare, se vedi che magari le tue skills non sono al top, cerca di essere il miglior compagno di squadra, cioè cerca di fare quella cosa che il tuo compagno di squadra non farebbe, cioè vai al campetto, ti fai la partita e non fai tanti canestre e cose del genere, pam, buttati per tenere la palla dentro, difendi a cannone come discorso, cerca di dare il massimo a essere il miglior compagno di squadra possibile e mi sentirei di dire questa cosa. E cosa, come dovresti ragionare se una persona, se ci sono magari persone, un gruppo, perché finché tu sei scassi, cioè non sai giocare, la colpa è tua, nel senso che ti incolpi con te stesso, ok, andrebbe anche molto bene questo consiglio. Sì. Ma se sono le persone, perché c'è, in qualsiasi sport c'è una specie di bullismo, non tra virgoletta, non con persone che magari ti spingono addirittura anche a smettere il proprio sport. Tu che consiglio daresti a queste persone? Di fare delle considerazioni, secondo me, una magari oggettiva che può essere che magari non è il livello adatto a te come tipo di discorso, quello in cui sei. due, che è più soggettiva, magari non è l'ambiente giusto per te, cerca un altro ambiente, prova a capire, se dici no, io in questo livello penso di riuscire a giocare, ok, prova a cercare un altro ambiente più affine, perché alla fine le persone tendenzialmente riescono sempre poi ad unirsi con persone affine, quindi è solo questione di trovarle. io ho iniziato in un campetto, vabbè, non sapevamo dove andare e sono andato in questo campetto i miei primi giorni a Milano, pieno di gente fortissima, io mi sono ritrovato che dopo due secondi c'è una persona qua sopra che mi ha schiacciato in testa, mi sono fatto tutti oh, io ho preso le mie scarpe e sono tornato a casa, ho fatto due minuti di campetto, mi sono messo a dormire, ho messo musica triste, ho messo a dormire, e ho detto no, non gioco più, poi vabbè, ne ho cercato un altro in quel campetto, io appena passo e vedo quel campetto piango, cioè dico no, non lo voglio vedere, no, e ne ho trovato un altro con persone più, cioè meno, cioè più o meno del mio livello, più o meno, anzi più, più del mio livello perché è un livello. E ti aiuta tantissimo perché giochi di più, sei sereno, non hai 3.000 pro, ovvio che se vuoi imparare, migliorare, devi per forza iniziare a giocare con persone che sono di un livello un po' maggiore perché se rimani nel campetto in cui fai il culo a tutti è facile rimanire lì. Però ti aiuta tantissimo anche mentalmente, come abbiamo detto all'inizio, che appunto lo sport non è solo vai giochi, perché se io vado, gioco e non mi trovo bene, non ha assolutamente senso perché lo smetto con lo sport. Se invece mi trovo un ambiente, un contesto in cui riesco a giocare molto bene con persone simpatiche, persone che ti aiutano quando sbagli, non ti urlano, perché anche questo è importante, il tuo benessere mentale tende comunque ad ampliarsi e ad aumentare. Vero. E tu, quando hai iniziato con i tuoi amici, come eri? scarso. Scarso, scarso. Cioè, più da adesso? Non vedo l'ora di spaccarlo. Non vedo l'ora di spaccarlo. E comunque sì, non mi ricordo come abbiamo iniziato, ma secondo me a un certo punto c'è stato qualcuno che ha detto andiamo al campetto, andiamo al campetto. E bam, da lì tutti i giorni. Cioè abbiamo fatto tre anni, tutti i giorni, l'estate, durante l'anno o meno. Ma d'estate, cioè 40 gradi, pam, sotto il sole, coccente, eravamo lì, giocare, 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 giocare. Continuando a giocare poi siamo migliorati un pochettino tutti e poi chi ha continuato a giocare di più, chi di meno e da lì poi migliori. Però no, all'inizio male, cioè no, male, male. Voi che giocate a basket, no? Che lo guardate spesso, penso. È forte secondo voi? Adesso io mi tolgo. È forte per voi? C'è la cava, dai. C'è la cava, dai. C'è la cava, dai. C'è la cava. Ok, girati un attimo, girati un attimo, ditemi un attimo. Vediamo oggi, vediamo oggi. Cioè ti vogliono sfidare? Vedi di essere pronto? C'è tutte le sfide, sì, sì. Io farò il video a tutto e poi metterò le storie, è scarsissimo. Tu prendi solo le brutte parti, solo le brutte parti, sì, sì, sì. Ma poi diciamo che quando, quando sei, diciamo, vabbè, sei migliorato, sei diventato col cecco, comunque il tuo personaggio... Ma è giocchicchio, dai. Sì. Ancora. Ma è giocchicchio. Sei bravino, sei bravino, facciamo così. Hai mai fatto tipo tornei? Sì. Tornei, tipo a tre street, robe. Sì, sì. Io ho fatto il primo, secondo me il più crasto anche, Mi Games, Santa Margherita Ligure. Tra l'altro anni covid, sbatti, quindi tutto chiuso e lì c'era. Cioè siamo andati con i miei amici, è stato super figo quel discorso, un bell'ambiente e quello bello, molto bello. Poi ne ho fatti tanti anche magari di paese come discorso, capito? Cioè è girato tanto, tanti paesi, tornei magari un pochettino in cui ci sono squadre più forti, tornei un pochettino magari più easy, però lì è tanto anche la vibe nel senso è sempre andato tanto non per dire ora magari andrà con un'ottica diversa però è sempre andato tanto per chillare come discorso, per fare una bella giornata di basket. Cioè c'è un bel ambiente. Per mi dirette, sì sì. Io sono stato l'anno scorso ho partecipato a un torneo di basket 3 contro 3, eravamo in 4, infatti io faccio il videomaker e non giocavo, sono andato i miei tre amici e mi sono reso conto che anche quando non giochi ti senti dentro la partita tra trash talking, tra persone che schiacciano, tra giochi, tra la street, comunque il cibo, musica americana e tutta un'altra vibes. Se giochi forse è anche un po' meglio, penso. e secondo me è proprio per questo che dobbiamo comunque cercare di capire quanto sia importante fare questa cosa perché la street culture secondo me è molto importante e non viene valorizzata appunto qui in questo paese. Anche perché c'è sta il calcio, se no non facevo niente, ma c'è sta un po' di tutto. Anche chi balla, cioè è proprio un mondo figo e secondo me lo ripeto di nuovo, dobbiamo e bisogna creare un modo in cui comunque iniziare a far partire questa cosa anche in Italia. Ce la si fa, ce la si fa. Sì, assolutamente. Così almeno pubblicamente ti... Come state ragazzi? Tutto bene? Come starete tutto a posto? Ma sinceramente... Ok, tu che hai detto che se la cava? Una persona che dice se la cava... Se la cava! Se la cava! Uno contro uno! Cosa pensi di fare uno contro uno? No, una persona che dice se la cava capito? Vuol dire che... No, lui è forte, è forte, è forte. cioè guarda i video allora non pensare che se la cava perché nei video... Cioè, capito? Sai com'è? Non è one take. Accetto la sfida, accetto la sfida. Accetto la sfida. No, no, io ho visto anche la sfida con Nerissima Serpe. Bella Neri! Bella Neri! K100 tutti! Fri tu! Bella Raga! Bella, bella bro! La Ale, tu! Lui è forte! Neri è forte! È forte, forte! Classica frase di Neri! Slime! Se avessi continuato a cercare basket è NBA! Classica frase di Neri! Classica! Sai che ce ne sono tante? Tante persone fanno così! Vabbè, lui è oltre a fatto che è veramente forte perché ho visto anche il video. È bravo, è bravo! tante persone dello sport ma in qualsiasi calcio, basket appena si fanno male al ginocchio che smettono dicono se non ci vuole qua fra stavo in NBA oppure stavo in Serie A capito? Dove ho detto? E poi vai andiamo a fare uno contro uno e vai a vedere che è peggio di me. C'è tanto così. Neri è forte comunque in generale però anche per dirti siamo andati a vedere Olimpia a Tertona settimana scorsa e a un certo punto durante la partita fa slime! pensai che potevo essere in campo basta Neri basta però no è forte è stato strafigo Neri è mio rapper preferito da un botto di tempo lo ascolto lo supporto mi hanno aperto le porte anche ho avuto la fortuna di conoscerli direttamente grazie a Franci la mia ragazza un saluto i cui manager creale compagnia di Franci proprio quindi poi conosciuto loro conosciuto Neri io super fan cioè super fan e è figo secondo me cioè questo è un esempio di allargare la street culture cioè Neri è street e gli piace il basket allarghiamola cioè lui secondo me è proprio un esempio di questo discorso assolutamente assolutamente ma avete qualche domanda da fare a Gigi personalmente oltre al fatto che volete fare l'uno contro uno magari un pensiero su quello che è TikTok basket Italia come si sta volendo penso che sei anche un po' uno dei fondatori vogliamo allora io devo dire grazie mille per la domanda innanzitutto io devo mettere ringrazio una persona che è qua presente che è Bella Lore prima di iniziare a far video io mi ero beccato il tuo video di banchero il primo video che mi ero beccato e secondo me comunque community in Italia di basket ci sta cioè possiamo far sempre di più cioè come discorso una cosa è che è difficile avere anche forse un pochettino come tipo di mentalità a volte anche proprio è brutto a dire però come mentalità italiana è il discorso di collettivo cioè che il benessere altrui non toglie niente a te perché se comunque si spacca cioè una persona spacca parlando di basket per dire vuol dire solamente che più persone inizieranno a seguire il basket e più persone che seguono il basket qualsiasi ambito cioè in questo caso il basket fa bene a tutti cioè capito quindi spingere spaccare non rosicare se un altro fa bene bella cioè è grande ah dici che non c'è questa coesione fra creators no cioè il basket c'è c'è abbastanza si l'ho sentita io poi non ho super a che fare con tanti come discorso ok è uguale però non ho affillato tanto tanta negatività come discorso però sarebbe bello proprio avere questo ambiente di spinta generale secondo me questa cosa questo discorso grazie per la domanda come mai il tuo modo di parlare è sempre simile però spingere fratellino cioè da dove è andato anche parlo così cioè io parlo così io parlo così è il discorso che facevamo anche prima sul fatto della spontaneità cioè nel senso quando ho pensato al progetto io ho detto dico peso ogni due parole crasto ogni tre spingere ogni cinque capito e quindi lo dico nei video cioè parlo così gesticolo così e parlo così è proprio il mio modo di parlare cioè proprio il mio slang e parlo così anche io ci siamo beccati e lo frate ne ho spingere cioè capito parte proprio diretta come cosa poi magari si aggiungono si aggiungono delle cose capito è figo però anche la cosa di fratellino tipo non so mi piace beccare qualcuno capito abbraccio cuore fratellino cioè è proprio una vibe per me è appunto quello che stavamo dicendo prima di crearsi proprio un timbro perché comunque ti è rimasto impressa questa cosa capito avevo visto sì hai detto ma quanto è strano questo aspetta fratellino altre domande qualcuno vogliono solo sfidarti bro vogliono solo sfidarti non vogliono farti accetto qualsiasi sfida campetta qual è la tua scarpa preferita mia scarpa ok bella domanda scrasta e ti sparerei così su due piedi Jordan 4 UNC come discorso mi piace peso e come modello 4 anche 11 Concorde mi piacciono un bot direi Jays e 4 e 11 i miei modelli preferiti anche le 3 mi faccia un peso però tutte anche le 13 un'ultima domanda un consiglio a chi vorrebbe iniziare a fare i video sui social non per forza basket proprio qualsiasi secondo me uno cerca la tua passione parla della tua passione due cliché classico sii te stesso sii te stesso che se fai un video una persona ti becca per strada qualsiasi cosa sei te stesso non devi fingere cose così sii te stesso parla della tua passione spingi non aver paura e fallo solamente fallo buttati la gente non si ricorderà se dovesse andare male o qualsiasi cosa la gente non è che dirà questo guarda cosa ha fatto non ne frega niente e anche se le cose van bene comunque un po' di giudizio ci sarà quindi tanto vale farlo e divertiti soprattutto divertiti facendo secondo me come discorso ti ringrazio questo episodio finisce qui salutiamo i nostri comunque Alex e Tommy che purtroppo non sono riusciti ad esserci e ciao è stato bello ti ringrazio è uno spacchetto è uno spacchetto è uno spacchetto ben raga grazie mille grazie a tutti oh mi raccomando eh oh mi raccomando eh oh mi raccomando eh si 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 non è che stavo tremando prima no stavo benissimo io stavo prima di iniziare no raga no ma cos'è non c'è scritto infatti guarda che non ti ho fatto nessuna domanda di quello che c'era scritto lì nessuna alcune domande ho fatto i giri della madonna ho detto dove arriva pam poi domanda che era stata capito è spaccato spaccato però c'è sincero ti ringrazio chiaroschi step out lo sabe mami lo sabe papi ok basta basta chiuso 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 chiuso